Siamo riusciti attraverso delle azioni mirate come il monitoraggio da parte di Sicilia Acque sulla quota di riserva per la fauna ittica al fine di salvaguardare la potabilità idrica a trovare una soluzione con un'ordinanza che firmerà nelle prossime ore il dottor Carta Bellotta con dei metri cubi, migliaia di metri cubi al giorno da destinare per agosto e settembre quindi per la stagione intera estiva che ci rimane ancora da affrontare monitorando anche meteorologicamente i quantitativi di piovosità e quindi modificando se del caso queste quote ma garantendo la sopravvivenza del settore dell'agricoltura in questo territorio quindi un grazie all'autorità di Bacino, un grazie al dottor Carta Bellotta